Sindaco, una giornata importante perché il Comune di Silvi torna ad avere la disponibilità piena di un impianto anche che ha valenza sia sociale, culturale nonché turistica. Sì, una giornata importante perché riapriamo finalmente la struttura qui dei campi da tennis, siamo convinti che ci sarà un ottimo lavoro da portare avanti in questi mesi, poi sicuramente in autunno faremo un bando di gestione almeno quinquennale per dare la possibilità di avere un impianto efficiente anche per il futuro. L'amministrazione ha sempre puntato sullo sport e soprattutto su quel turismo sportivo che ne caratterizza l'essenza. Noi oggi con la riapertura di questi impianti diamo la possibilità ai tanti turisti che tutti gli anni vengono qui sul territorio e si vogliono divertire con le attività e con il tennis in particolare. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità grazie all'amministrazione comunale di poter rigestire questo impianto sportivo che in realtà abbiamo trovato in condizioni non idonee per poter praticare uno sport e uno sport soprattutto per i bambini. Noi lo abbiamo totalmente rivoluzionato, lo abbiamo rimanutentato come doveva essere fatto negli anni e ad oggi è tornato ad essere quello che vedete, un impianto assolutamente all'altezza di un centro di una cittadina e come sia deve essere un giardino e quindi di conseguenza tenuto nel stesso modo. E quindi anche quest'anno come negli anni passati daremo la possibilità a tutti i bambini che non hanno mai fatto attività tennistica o comunque legata al mondo dello sport perché noi siamo un centro tecnico anche del CONI e quindi noi abbiamo la certificazione per la multidisciplinarità sportiva. È una gioia immensa perché significa che nuovi ragazzi, nuovi giovani, nuove persone possono praticare sport e quindi ringrazio chi ha reso possibile la riapertura di questo circolo tennis qui a Silvi in una posizione bellissima e quindi non posso che augurare un caloso in bocca al lupo ai gestori nella speranza che possano continuare a lungo e incrementare sempre di più la partecipazione e la frequenza del circolo da parte di giovani tennisti.